22 nella mappa silver run forest allora continuiamo il play come potete vedere in alto a destra abbiamo diciamo ho un notevole budget a mia disposizione ma come mai come mai questo è il motivo eccolo qua sono andato in giro per la mappa off camera a trovarmi tutti i 20 vediamo un attimo se riesco a le statistiche eccoli qua i 20 su 20 eccoli qua mi sono andato ad affare e visto che era una bella cifra diciamo mi sono andato ad affare e li ho recuperati tutti comunque come andare un po avanti allora cosa facciamo oggi beh innanzitutto ho notato che ma sicuramente lo sapete anche voi che c'è diciamo come obiettivo la costruzione di questo otto volante in pratica qui mi chiede dei materiali che diciamo devo recuperare e guardando questa lista gli unici materiali che mi mancano sono le piastrelle che se non sbaglio ecco lamenti e se non sbaglio direi di prenderla visto che mi serve e in più il metallo piastrelle assi lunghe e assi vabbè non è un problema perché tanto assi lunghe e assi assi lunghe e assi per cui mettiamo in distribuzione anche le assi visto che devo portarle qua credo che non ci vorrà molto lì ok e poi diceva il metallo allora io ho cercato in giro ma non c'è la fornace eccola qua costa una barca di soldi allora innanzitutto innanzitutto come sembra prima di continuare con il gameplay vi ricordo di iscrivervi al canale e pollicioni sud un milion like commentate condividete giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio allora detto ciò devo mettere giù la fornace che costa 180 mila euro c'è che c'è questa questi cosa sono dovrei fare una cosa prima allora allora prima vi dicevo che ho scoperto che questo è il minerale di ferro che mi serve per alimentare la fornace macchinario la fabbrica è questa e ho pensato di posizionarla qui sì ci sta benissimo qua per cui meglio di così non si può allora l'unica soluzione è iniziare a sistemare qua ok per cui adesso basterà trasferire il materiale all'interno minerale di ferro in pratica basta che gli porti quel materiale lì il problema forse è che sta terra non è ma sta terra non è possibile comprarla speriamo in bene allora mi serve mi serve un rullo funzionano direttamente oppure no è uno di questi dovrebbe funzionare direttamente questo intanto lo noleggio e lo porto qua capire se funziona a quanto pare si facciamo subito una prova 100.000 litri lo lascio qua sotto e si arrangia interessante è troppo alto si si va benissimo anche molto bene andiamo subito a prendere il cassone e torniamo qua se no a far giri partita di benissimo ottimo diciamo il silo per i per le produzioni ecco per cui potete vedere abbiamo assi che sarebbe il caso di portare qua assi lunghe e assi vediamo se abbiamo assi lunghe no allora facciamo spawnare un po' di assi che gliele porto finché vado a casa 10.000 litri assi no 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 eccellente eccellente mare qualcosina anche perchè ho fatto l'upgrade della produzione di legna perchè andava oppure no non l'ho più fatta si che l'ho fatta strano però che ci sia del concime quando io non l'avevo chiesto prendiamo il cassone se c'è qualcosa da sistemare ah si forse l'avevo comprato si 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 c'è qualcosa questo non posso farci niente qua servirebbe un po' di concime allora già che ci sono che sono qua mi metto dentro un po' di concime che poi mi sposto mi servirebbe un altro trattore però già che ci sono prendere un altro di questi no no non sarebbe il caso 136 mila euro 136 mila euro di questo class dove è andato a finire 15 cavalli ok vai almeno abbiamo anche il trattore allora qua ci vuole 70 mila litri vabbè basta così allora mi conviene lasciare e prendermi un altro cassone perchè sennò non avrebbe tanto senso spostare la produzione da qua allora un altro cassone abbiamo detto di questi se abbiamo un altro trattore da poter sfruttare perchè sennò siamo messi male che problema c'è ok andando molto bene qua ma vedo che scarseggiano parecchio per cui non lo so non ho idea di che produzione stiamo parlando comunque ha già prodotto qualcosa cerchiamo di generare il più possibile dobbiamo arrivare a vediamo 200 litri forse e poi possiamo portare tutto si 200 litri non sono tanti no scusate 480 200 litri di piastrelle non ho controllato le piastrelle sinceramente piastrelle 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 dalle assi dobbiamo andare un attimo avanti adesso si perchè non c'è altro a parte qualche missione ma per il momento non c'è altro io direi di andare un po' avanti vediamo che succede l'unica cosa che mi devo ricordare è che l'unica cosa che mi devo ricordare è che 126 molto bene sì vediamo se riusciamo a fare qualcosa perchè qua ha già raggiunto i 52.000 litri o sbaglio è forte sto nastrino qua forte forte se c'è qualcosa che piastrelle fino alle 18 fino alle 17 tutte portare un po' di materiali portiamo il giro e vediamo se in questo gameplay prima di concluderlo riusciamo a riesco a dargli quello che vuole alle 1000 litri alle 1000 litri attraver il legno ok 6000 litri molto bene di assi queste sono assi se non sbaglio se va ma noi capito qua ah qua siamo pieni andiamo a scaricare andiamo a scaricare ferro eccellente ottimo perfetto è questa e come fa a comprarlo peccato di sassi di metallo per cui va bene così portiamo questo carico qua a parte che forse voleva anche le assi lunghe già che sono qua assi lunghe forse non ne ho assi lunghe sì perché sono da qualche parte allora dobbiamo devo modificare le assi lunghe in genera cominciamo a generare un po' di cosette perché di queste cose qua me ne servono un po' troppe per cui quello che ha prodotto ha prodotto il resto verrà da sé vediamo un attimo che succede io non credo che venda però esatto non bene però questa cosa funziona sta cosa qua magazzino e allora le piastrelle e la ringhiera mi sembra vediamo un attimo se la produzione della ringhiera ce n'è oppure no devo andarla a prendere ringhiera per scala piastrelle e metallo piastrelle sono qua contrassegna luogo dovrebbe aver prodotto qualcosa sì perfetto perché mancano un po' di sperare meglio che carichi uno solo quant'è uno di questi scusate mille litri sì sì ne basta mille litri il resto può stare qua allora mi sono preso metallo adesso torno giù perché non ce la facevo venire su col trattore e ho preferito partire direttamente da schierigo allora dov'è che ho lasciato tutto io una bella storia questa qua forse ormai è andata così per finire la prima fase in teoria dell'otto volante non dovrebbe essere così complesso sistemarla vediamo un attimo allora eccoci qua non so cosa succede se succede qualcosa perché finora io gli ho venduto i prodotti non gli ho vedete non lo so a fase successiva a fase successiva dovevo prenderlo tutto ah interessante mi sembra di capire che più cose gli porto e meglio è a sto punto questo 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 non me ne faccio una mazza ormai niente devo andare avanti col tempo comunque io credo che tra un po' mi fermo qui come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale pollicione su del million like commentate condividete e giù in descrizione sui link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio a sto punto andiamo avanti ancora perché tanto devo solo produrre e portargli qua possiamo generare anche il cippato in teoria qua sta andando bene qua funziona alla grande cilendri che è magazzino per container non mi interessa appena qua abbiamo diesel e acqua da sistemare le capacità qua la situazione si è fatta scivolosa ma purtroppo devo lasciarla qua qua invece abbiamo recuperato ancora un bel po' di ok di prodotto comunque ce n'è in abbondanza qua mi conviene questo lasciarlo qua la botte sperando sia fatta per il diesel invece c'è acqua dentro di diesel per la fabbrica e poi vado avanti in teoria dovrei riuscire a fare qualcosa ok perfetto andiamo a gennaio a sto punto come va va teoria le produzioni va bene intanto le piastrelle me le fa lo stesso non è che cambi molto eh qua disattiva perché ne hai già fatto anche abbastanza qua devo produrre più non posso perché serve molto bene facciamo un altro pieno dire se si può fare qualcos'altro ottimo ottimo però lo faccio lo stesso perché voglio provare lo so metterlo qua o metterlo da un'altra parte vediamo un attimo a sto punto vendita sembra che sto minerale di ferro sia una rottura di di zebedei qua nel frattempo abbiamo riempito questa neve non vuole andarsene vediamo un attimo le produzioni si a parte la tegola che è piena devo andarla a svuotare eccellente altre cose ma credo che per il momento mi fermerò qui perché c'è un bel po' di lavoro da fare ancora sicuramente ci vorrà ancora qualche produzione comunque un po' intasate comunque io vi ringrazio per essere qui in mia compagnia vi do appuntamento al prossimo gameplay ciao a tutti grazie e alla prossima ciao ciao